Maestro Antonio Caponigro ha ricevuto di recente tre importanti premi, ma prima di questo parliamo del suo background professionale sul palcoscenico. Io partirei prima dalla parola maestro perché è una tua provocazione che io praticamente accetto e ci ironizzo sopra. Maestro sì, ma di scuola primaria da 35 anni. E eviterei proprio assolutamente, perché la evito nella mia vita, la parola maestro di teatro. Uno perché maestro con la M maiuscola ce n'è stato uno e lo conosciamo, dov'è? E dov'è? Ovunque, ma soprattutto la sua residenza principale. Seconda cosa perché vorrei diventarlo maestro però post-mortem, ma la mia morte la vorrei quanto più lontana possibile. Quindi evitiamo la parola maestro che è usata e abusata da tanti. Beh, a parte questa simpatica battuta e questo piccolo contraddittorio, certo io ho iniziato, sono praticamente 40 anni, festeggio quest'anno. I miei 40 anni che non sono né nozze d'argento né nozze d'oro, ma comunque cifra tonda importante. Con il teatro e ho iniziato nel 1979 in quarto magistrale con una splendida insegnante di musica, la professoressa Maria Diodato Buonaiuto, che mi va comunque di nominare. Perché grazie a lei, diciamo, non è che ho iniziato dentro di me a fare teatro o a vivere il teatro, perché già da ragazzino vivevo pure dentro casa questo desiderio di fare teatro. Quindi lo vivevo dentro il mio sangue, dentro la mia carne. Però con lei, grazie a lei, ho iniziato in quarto magistrale con questi fantasmi di Edoardo De Filippo. Chiaramente una compagnia o una scuola campana, il più delle volte inizia con Edoardo De Filippo a fare teatro. E di là poi è andato avanti il mio percorso teatrale. Ho dovuto fare una scelta anche per le difficoltà economiche della mia famiglia, di cui non mi vergogno di parlare, perché mio padre con molta dignità mi ha fatto raggiungere gli studi superiori, quindi mi ha fatto diplomare, non poteva più seguirmi. Io avrei voluto frequentare l'Accademia Silvio D'Amico di Roma, quindi il mio pallino allora era quella. E ho dovuto fare una scelta per problemi economici, se fare il teatro all'Accademia Silvio D'Amico da solo, o invece costruire il mio teatro qui sul territorio, che poi è diventato il nostro teatro. Cioè il mio, degli amici del teatro, la compagnia di un tempo, e di Teatro Dei Dioscoli, la compagnia della quale mi onoro di far parte, che è formata da tanti attori, più giovani e meno giovani, ma un grande gruppo che sta a fianco a me, che mi segue e che io seguo, con il quale portiamo avanti tantissime attività di spettacolo, di laboratori di formazione, il laboratorio permanente tradizione e tradimento, e poi ovviamente gli spettacoli portiamo in giro in tutta Italia e in tutta Europa. Con i risultati belli che conseguiamo, tanti riconoscimenti e premi. Anche su questa cosa vorrei fare una piccola battuta, perché per quanto ci riguarda, noi non è che viviamo di premi o ci sveniamo se non prendiamo i premi, però per smentire una risposta che a volte è leggermente ipocrita di tante compagnie, quando li riceviamo ci fa comunque piacere, perché per noi è importante come riconoscimento. Premi, soldi e applausi non devono mai mancare, parliamo appunto di questi premi. Beh, allora anche qui mi stai provocando Quintino, perché cito una frase del grande Edoardo, nostro conterraneo, di cui eccoci onoriamo anche di mettere e portare in scena tre testi, negli ultimi anni, Sogno di una notte di mezza sbornia, Natale in casa Cupiello, diciamo il testo uno dei più importanti o almeno dei più conosciuti, e soprattutto negli ultimi tempi, Uomo e Galantuomo, che è un testo che ha molto di pirandelliano, di teatro dell'assurdo, di Beckett, come almeno lo abbiamo messo in scena noi, come grande omaggio ad Edoardo, per fare anche scegliere un taglio di messa in scena completamente diverso dal suo, ma soprattutto come rispetto nell'ottica di tradizioni e tradimento. Beh, diciamo che di premi ne abbiamo ricevuti tanti, ne riceviamo, ecco la frase di Edoardo era questa, il cinema ti dà i soldi, quindi non parliamo di teatro, la televisione ti dà la fama, il teatro ti dà la fame, dal punto di vista economico ci sono seri problemi quando si fa teatro, dal punto di vista però delle soddisfazioni, beh, siamo molto ricchi e non invidiamo nel cinema, nella televisione, proprio di premi ti parlo velocemente, gli ultimi che abbiamo preso negli scorsi giorni, diciamo che ho fatto il triplete, quindi non si fa soltanto nel calcio, al Festival di Rovereto, il Sipario d'Oro, ho avuto il premio come migliore attore e migliore regia, e quindi contentissimo di dedicare questo secondo premio all'intera compagnia, perché un buon regista non esiste se non ha una buona compagnia, che non sia valida solo come recitazione, ma sia anche nell'ottica del ragionamento e della linea del regista, perché avere attori che ti fanno vincere il premio migliore regia, significa che hai una condivisione sull'idea di regia che poi metti in scena. E poi al Maschera d'Oro, grande festival di Vicenza, ho ritirato il premio come migliore attore. Devo dire che avevamo avuto anche la nomination come migliore compagnia, sinceramente mi avrebbe reso molto più soddisfatta, alla luce di quello che dicevo prima, a questo premio, però ne abbiamo presi tre, va bene uguale, la nomination comunque è importante, perché il festival di Vicenza, come quello di Rovereto, è un festival molto prestigioso. Le do uno stimolo per parlare ancora, una parola, Gerione. Da declinare al passato, al presente e al futuro. Gerione rappresenta una storia che in tutta Italia ci invidiano. Gerione che è arrivato alla quindicesima edizione, quest'anno col tema L'Aquila che si credeva un pollo, sottotitolo Prove tecniche di autostima, è dedicata a tutte quelle persone, ma non soltanto ai ragazzi ovviamente. È chiaro che i partecipanti sono ragazzi dai sei anni, anzi dai cinque anni dell'infanzia all'istituto superiore, ma qualsiasi essere umano, a qualsiasi età può avere problemi di autostima. E spesso ci si trova nella vita a credersi un pollo, invece poi si scopre alla fine che si è comunque un'aquila, almeno in nuce. A parte questo, il sistema Gerione è un sistema territoriale fortissimo che abbiamo costituito in questi quindici anni, con Teatro dei Dioscori e il Comune di Campagna e l'istituto Palatucci di Quadriere di Campagna, che hanno creduto in queste idee, l'hanno portato avanti, ai quali enti si sono affiancati subito con una bella intesa di programma, la Proloco Città di Campagna e gli altri istituti del Comune. In tutto questo però abbiamo patrocini di vari enti, tra cui l'Unicef, il Ministero dell'Istruzione, abbiamo il patrocinio dell'Agita, della Wilt, la federazione di cui facciamo parte, della Itaiata, che è un ente teatrale internazionale, e poi abbiamo tanti istituti e comuni che coinvolgiamo sul territorio con le giurie, perché noi cresciamo nel Gerione, nell'ottica del fare, ma anche del vedere e del riflettere sul teatro. Quindi i comuni come Eboli, come Oliveto Citra, come Serre, come Omignano, e quest'anno abbiamo anche Palomonte, sono comuni nei quali i nostri operatori teatrali vanno a fare formazione e poi i ragazzi vengono al Gerione per assistere agli spettacoli, per discutere, fare i dibattiti, votarli, per visitare anche il nostro territorio. Le associazioni a scuole che partecipano da tutta Italia, perché noi non siamo aperti solo alla scuola, che è comunque un cardine importante, ma a tutti i tipi di associazioni per l'inclusione, per l'integrazione, quindi interculturali, diciamo di nazionalità diverse, disabili, mentali o fisici, carceri minorili, cioè oratori, accogliamo nella nostra iniziativa tutto il sociale, quindi il teatro di comunità. E da tre anni, anche col progetto Erasmus, abbiamo la presenza internazionale dell'Europa e ne siamo veramente molto felici e molto onorati. Importanti contenuti, ma senza il contenitore, quindi la necessità di avere a campagna uno spazio adeguato, attrezzato per essere e per fare teatro. Beh, senza alcuna vena di polemica, devo dire che siccome io personalmente sono 40 anni che faccio teatro, però la mia compagnia è dall'82, quindi siamo arrivati comunque a 37 anni, mi sarei aspettato già da diversi anni un grande contenitore che non deve servire soltanto al teatro, nell'ottica, nella mia ottica personale di sistema, il contenitore dovrebbe servire a contenere teatro, danza, musica, cinema, convegnistica, diciamo cose nelle quali noi abbiamo delle grandi energie organizzative e artistiche sul territorio. Purtroppo non è stato così e questo per me è un grande dispiacere, anche perché ti dico con una vena di amarezza che noi nell'ultimo anno, un anno, un anno e mezzo, abbiamo inaugurato vari teatri nuovi nel nostro territorio, addirittura il teatro di Casalbuono, paesino di mille abitanti, che è un bel teatro, il teatro di Altavilla Silentina, siamo stati al nuovo teatro di Sala Consilina, il teatro Scarpetta che è enorme praticamente, e beh, devo dire, Sala Consilina, 13.000 abitanti, ha una buona tradizione teatrale, con grande rispetto degli amici, i ragazzi di San Rocco, la Catena delle Arti, ma qui abbiamo 18.000 abitanti quasi e abbiamo 40 anni di esperienza. Beh, diciamo che a questo punto avremmo dovuto avere un teatro una volta e mezzo a quello di Sala, non ce l'abbiamo, riusciamo a fare teatro o all'aperto in estate, con la rassegna corsi e percorsi, ma non basta assolutamente, oppure col gerione utilizziamo l'auditorium dell'Istituto Comprensivo Palatucci al Quadrivio, che io lo chiamo bomboniera, è una piccola bomboniera, con una capienza di 120 posti, però, dove facciamo laboratori, formazioni, prove, anteprime, cioè da anni e quindi anche il gerione, abbiamo fatto anche la stagione teatrale negli anni scorsi, e la palestra dell'Istituto Comprensivo Campagna Capoluogo, che ci viene gentilmente messa a disposizione, però capirai, è una palestra, la togliamo allo sport, ai ragazzi, per fare teatro, la attrezziamo a teatro e poi la dobbiamo rismontare per restituirla integra, ovviamente. Beh, diciamo che abbiamo grandi contenuti come teatro di Dioscoli, e quindi è inutile rielencarli e come territorio, effettivamente, caro Quintino, il contenitore per Campagna, un contenitore degno della cittadinanza, della cultura campagnese e della nostra storia, ci dovrebbe essere. Spero che non venga costruito alla memoria, insieme alla parola maestro. Siamo nel suo ufficio per parlare dei tre premi ricevuti da Antonio Caponigro. Beh, una straordinaria affermazione, che per la verità è una conseguenza del lavoro svolto da Antonio Caponigro, dal teatro dei Dioscoli in questi decenni, e dunque la naturale consacrazione. Parlare di teatro a Campagna significa anche gerione. Sì, con tutti gli aspetti e le implicazioni correlate all'educazione, perché quello è un teatro educativo che riesce a muovere un interesse non soltanto nazionale, ma ormai da qualche edizione anche internazionale. Qui vengono diverse nazioni con il loro teatro, con la loro espressione, ma tutti hanno come fondamentale l'aspetto dell'educazione. Proprio la valenza del teatro come momento di aggregazione per una città importante? Momento di aggregazione, ma anche di educazione non convenzionale. È un canale straordinario per comunicare in termini diversi argomenti molto importanti. Antonio e il suo teatro lo fanno benissimo. Chiudiamo con un'esortazione ed un augurio per Antonio. Beh, che prima o poi dovremmo avere un grandissimo teatro. Qui parlo in senso edilizio, strutturale, anche a Campagna, perché sarebbe la sua e la nostra felicità.